Mister Raggi, una vittoria sofferta, una vittoria importante perché vi permette anche un allungo in classifica, ottenuta con grande voglia di portarla a casa, forse un secondo tempo un pochino più prudente, un primo tempo in cui avete avuto le occasioni migliori, avete trovato la rete con un episodio, però state premendo, nella ripresa avete forse sofferto un po' la Ducano. Sì, come hai detto tu, sapevamo di affrontare una squadra che è in salute, abbiamo trovato i gol su un episodio, io ho detto ieri che queste partite si decidono sugli episodi e noi siamo stati bravi a crearceli, nel primo tempo abbiamo giocato ordinati, abbiamo pressati bene perché loro se li lasci giocare sono una buona squadra, poi chiaramente vincendo 1-0 al secondo tempo qualcosina soffri, dovevamo sfruttare meglio alcune occasioni in ripartenza, però non l'abbiamo fatto, ma la squadra si è sacrificata, ho visto una squadra che ha sofferto, ha lottato contro un avversario di tutto rispetto e questo lo sapevamo, quindi ho dato un grosso applauso ai miei ragazzi perché si sono impegnati proprio più del normale, si sono sacrificati per centrare una vittoria che è importante, anche se come ripeterò per l'ennesima volta il campionato è lungo e non finisce oggi né con una vittoria né sarebbe finito con una sconfitta, chiaramente questo è di buon auspicio perché ci fa lavorare con serenità, ci dà morale e ci dà la possibilità magari di affrontare le partite con uno spirito diverso, sapendo che ho a che fare con dei giocatori veramente veramente incommiabili sotto tutti i punti di vista, tutti dal primo all'ultimo. grazie 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 grazie